Buongiorno agli amici di automoto.it, mi chiamo Federica De Ledda e sono il dirigente della sezione polizia stradale di Cremona. Siamo qui oggi per presentarvi una nuova rubrica di sicurezza stradale. Vi porteremo sulle strade con noi per mostrarvi i comportamenti più pericolosi alla guida e per darvi consigli su come viaggiare in sicurezza. Ci troviamo in autostrada in prossimità di un portale Tutor. Tutor è un sistema di rilevazione della velocità ormai presente sul 40% delle tratte autostradali del nostro paese. Può essere utilizzato per la rilevazione della velocità istantanea oppure, come lo utilizza la polizia stradale, per la rilevazione della velocità media. Ci sono due portali, un portale d'ingresso e un portale d'uscita, posti ad una distanza tra i 10 e i 25 chilometri senza soluzione di continuità. Sfatiamo alcuni luoghi comuni che circolano sul Tutor. Il Tutor funziona con qualunque condizione meteorologica, funziona anche di notte, funziona in caso di nebbia ad una visibilità di 30-40 metri. Assolutamente inutile spegnere le luci della targa, anzi pericolosissimo. Un altro comportamento molto pericoloso è spostarsi sulla corsia di emergenza. Il Tutor rileva il numero di targa anche quando l'autovettura è sulla corsia di emergenza, anzi ricordiamo che è pericolosissimo e che è comunque sanzionato con il ritiro della patente. Ai motociclisti ricordiamo solo che la targa deve essere perpendicolare all'asfalto. Il Tutor è attivo sulle nostre tratte autostradali dal 2005. A distanza di 10 anni possiamo tracciare un bilancio assolutamente positivo perché gli incidenti con esito mortale in autostrada sulle tratte dove è presente il sistema di rilevazione Tutor sono diminuiti del 50% e soprattutto abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo. Siamo riusciti a cambiare la condotta di guida degli utenti che sono senz'altro più rispettosi dei limiti di velocità. Tutti gli utenti possono consultare la posizione e l'attivazione dei sistemi Tutor attraverso il sito www.poliziadistato.it. Sulle tratte in cui non è installato il sistema Tutor la polizia stradale utilizza ancora l'autovelox. Venite con noi a vedere come funziona. Dopo aver visto come funziona il sistema Tutor adesso vediamo come si utilizza il sistema autovelox. Sulle tratte dove non è presente infatti il sistema Tutor la polizia stradale controlla la violazione dei limiti di velocità attraverso quest'altro strumento. È importante per la polizia stradale controllare la violazione dei limiti di velocità perché è una delle cause principali degli incidenti stradali. Infatti le tratte sulle quali vengono installati questi sistemi sono scelte in base al rilievo degli incidenti stradali. Più alto è il numero di incidenti stradali soprattutto con conseguenze gravi o addirittura mortali e maggiore è l'attenzione della polizia stradale per questo tipo di violazione. Il nostro intento è soprattutto quello di modificare le abitudini degli utenti alla guida facendo in modo che tengano una condotta di guida improntata a canoni di prudenza. Tutti gli utenti possono controllare in tempo reale l'esatta ubicazione e l'attivazione dei sistemi di rilevazione della velocità consultando il sito www.poliziadistato.it 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 www.poliziadistato.it